dell'isola verso altre strutture e tra le persone arrivate proprio sull'isola siciliana ci sono anche una settantina di minori, come ci racconta il nostro inviato Matteo Parlato. Avvocato, quanti minori ci sono dietro questo cancello? Ci sono attualmente 76 minori. Età media? Età media sono dai 14 ai 17 anni. E più piccoli ce ne stanno? Ci sono più piccoli, sono i minori che sono accompagnati dalle famiglie e vanno dai 4 ai 7-8 anni. Gli altri sono tutti venuti da soli, senza genitori? Gli altri sono venuti tutti da soli, sì. Che cosa è previsto che trovino i minori quando arrivano dentro questo centro? I minori la prima cosa importante è che in questo centro dovrebbero permanere per pochissimo tempo. Quindi dovrebbe non parlarsi più di emergenza, ma dovrebbe attuarsi un piano organizzato, strutturato per trasferire immediatamente i minori da qui. Nella pratica i minori a volte stazionano qui per più tempo e questo per noi non è accettabile. Dovrebbero essere trasferiti il più velocemente possibile in delle comunità che possono accoglierli e dove possono essere rispettati i loro diritti. Dove sono queste comunità e chi le gestisce? Un po' in tutta Italia, sono delle comunità per minori, dove normalmente vengono ospitati non più di 10 minori, dove il minore trova un ambiente favorevole per costruire le basi per una vita nuova.